Ok, è entrata fast e veloce in questa discoteca abbandonata, benvenuti qui sul canale, intanto entriamo nel posto Allora Fermo Mi sento delle voci No Io no Vabbè Allora discoteca ragazzi, iniziamo a vedere qualche ambiente, ovviamente è vuota o meglio ci sono dei contenitori e cose, ma capite? Immensa comunque Allora pensate discoteca costruita negli anni 70 e abbandonata nel 2008, quindi 38 anni di attività per questa discoteca Ora ovviamente è abbandonata da ben 15 anni, quindi ovviamente ritroveremo pochi elementi della discoteca, però vediamo i suoi ambienti e tutto quello che non è Ma poi si continua Ho sempre paura di beccare ragazzi, perché prima di noi abbiamo visto entrare qualcun altro e abbiamo paura di beccarli Grazie mille Un cammino c'era qua guarda Qui secondo me c'era delle grigliate incredibili E sotto qua c'era il fuoco Tanta roba È stato usato per molto si vede Questa sonora la cucina Tutta la cucina qui ha maglietti Infatti è pieno di bicchieri, bicchieri veterotti ovunque Oh c'è l'etilo, l'etilo al test, guarda qua Bellissimo Tipo per guidare senza per me è venuto una moderazione Vai attenzione per guidare ma con prudenza sei quasi al limite consentito Penso che lo mettessero all'inizio della discoteca così uno poteva guidare in sicurezza Ovviamente vandalismo totale qua dentro Già da fuori Ok allora niente Già si capisce Questa è una cella? Sì quella è una cella pregoifera dalla porta Sì Altrimentalmente c'era anche la piscina questa discoteca Quindi adesso andiamo per una cercarla Tutto ciò Vabbè qui hanno saloni dove si ballava Dove c'erano i divanetti Cosumo Qua si capisce ben poco Cosumo servisse a Non abbiamo visto i cosi dettagli Ah sì sono tutti i frigo, freezer della San Montana Che è un botto vecchio Questo invece non so cosa sia Vediamo Questo è un freezer San Montana Questi qua non so cosa... forse è un... Fai luce per favore poi Buon rifrigeratore E' un rifrigeratore E' un rifrigeratore anche questo Vedi che c'è tipo il... Fiacco di neve Si è un rifrigeratore anche questo Qua ci sono tutti i tasti per attivarlo Anche questo serviva Per spure qualcosa Magari i gelati Anche questo Eh ma quanto si ha anche nei locali Sono belle grosse i locali eh Si Minchia non più stai Vedete qua dentro ragazzi E' decisamente impossibile Pien di bene Bene Belle grosse le stanze eh Cioè Non me l'aspettavo Nuova Ma vedete un po' Siamo molto più piccola Carraucola Questa è la per le tende forse Gli da siamo andati? Eh? Gli da siamo andati? Eh non lo so Non lo so Non lo so Però finisce lì mi sa Si E' chiuso lì no? Sono delle sale si Sono altre sale comuni Adesso Vedi qua c'era il tavolino Magari si mangiava Si O comunque c'era il bar Fai la pipista Gianni Qua si esce qua Guarda Quelli sono scontrini Questi sono bagni Si ma sono vuoti Questi sono i rotoli degli scontrini Però vuoti Guarda una bilancia invece Si Questi sono bagni penso Semplicemente Vedrò se nemmeno i bagni Si 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 Sono bagni Sono solo bagni questi Sia questi sia quelli Classice Questo presumo questo è degli uomini Beh direi Si Ok penso che l'opera all'interno In realtà o li abbiamo finiti O veniamo dopo Speriamo uscire a capire Andiamo Ok da qua vediamo la macchina La nostra Ah qui c'è l'entrata proprio Adesso Se lo facciamo facciamo vedere anche quella Però c'è la strada là eh No non è questa l'entrata Oh No No Sarà Intascurata la wanna Fai per ultima Bu Sì e' em tous Eh sì ma c'è la strada E' a ne che Con hai montato carico Si questo m Non è montato carico Non Guardate le persone Predisabili Sh Adesso Di stalk Beh, in realtà io mi farai vedere prima di tutto. Dove cazzo sono? Vabbè, nel momento sentite i rumori perché ci sono dei ragazzi che vi avevano detto prima. Questi sono tutti gli ambienti esterni. Adesso ci sarà anche una piscina a qualche parte. Che sono mai di là dove sono loro a questo punto. È gigante. Sì, è bella grossa. Qua cosa c'è? Vai a sinistra, aspetta. Sì, sono dietro di dico. Facciamoci vedere, almeno sono che sono qua. Sì, vedi, se arriva qua... Bello! Qui si ballava l'aperto sicuramente. E lì c'è il bancone per bere i drink. Adesso mi farei vedere dai ragazzi. Però... Vado, vado a farmi vedere. Ragazzi, siamo dentro anche noi, stiamo esplorando. Tranquilli. Tranquilli, non è problema. Però è giusto per dirvelo. Ok? No, no, sono venuto a posta per dirvelo. Tranquilli. Eh? Stiamo registrando e stiamo esplorando. Per quello. Tranquilli. Debug. Se vuoi c'ho qua la felpa. Vabbè, siamo qua comunque. Adesso per avvertirvi, ok? E qua è al... Qui c'è Ethernet. Quello sopra lì è il tetto. Vabbè, è super. Sì, sì. Però comunque è bello il bancone e il dietro. Quello è rimasto bello. Allora, mi fanno che là c'è la piscina. Stavano arrivando dalla piscina allora. Quindi adesso troviamo la strada e andiamo alla piscina. Qui... Vabbè, in realtà ci sono tutti questi spazi esterni che ancora l'abbè abbiamo fatto vedere. Sì, ma infatti lo stesso... Oh, ma qua si sale. Cioè, penso che sia un... Eh, ma da dove dove si sale? Ma va, no. Lì è chiuso. Questo secondo me era tipo un palco per... Magari c'era il DJ con le casse qua. Però... Eh, ma... Siente, ma è dei locali che entra, capito? Eh, ma noi non stiamo... abbiamo fatto quelli giù. Non quelli su. C'è anche un pezzo. Anche... Guarda, guarda qua. Qua si va su. Aspetta, aspetta. Speriamo a capire. Perché qua si può si va ai locali dove... Però ho visto questa porta qua. Sì, qua. Vediamo se qua... Eh, qua c'è una porta. Però non so, si è aperta. Allora, vediamo se qua... Tenti qua che c'è il buco, eh. Occo. No, ha chiuso. Ha chiuso, ha chiuso. Chissà che... Qua ho fatto anche un uffalo, non lo so. Non lo so se c'è un modo per prendere i piani su. Non lo so. Ecco. Ma di me... Si è sfasciata la carta in questione. Eh sì, non tengono più questo. Qui ci sono altri ambienti esterni, amici da casa. E guardiamo un po' cosa c'è sul basso. Eh? C'è un borsone. C'è un borsone, sì. Che è? C'è un borsone. Eccoli là, ragazzi. Ah, mica ho il bastone. Ah, vedi, lì c'era l'uscita. Ah. Di emergenza. E qua era un ambiente esterno dove si passava la serata. Tutto completamente preso dalla natura, ormai, questo pezzo. Bello lì. Sì. Eh, purtroppo... Cioè, purtroppo la natura si stava prendendo tutto. Quindi non si vede bene la murales dietro. Però è bello. C'era proprio della discoteca, non è stato fatto dopo. Stai prendendo già. Vedi andare a cercare la piscina che penso sia l'ultimo... L'ultimo... Arriviamo? L'ultimo pezzo.